Subito a lavoro il nuovo sindaco di Roseto Mario Nunez che con la sua maggioranza ha già iniziato a scrivere sull'agenda gli impegni che dovranno essere portati avanti per far ripartire la macchina amministrativa. Ci sono delle urgenze legate in modo particolare alla riorganizzazione dell'apparato amministrativo. Da subito la mattina del martedì ho preso possesso e l'impegno della responsabilità di essere primo cittadino e ho cominciato a mettere mano a quelle che erano le urgenze soprattutto della macchina amministrativa di ripartire perché un comune come Roseto non può permettersi di fermarsi un solo secondo. È ovvio che l'aspetto fondamentale sarà quello di dotare l'amministrazione di una giunta che sia operativa che possa già compiere degli atti per poi fare il primo consiglio di insediamento ufficiale. Quindi stiamo lavorando in questi giorni dal primo giorno con tutti i gruppi consigliari per decidere le ultime mansioni e soprattutto le ultime caselle da riempire. C'è un grande accordo, c'è un grande lavoro di squadra da qui a qualche ora penso che a fine settimana potremo ufficializzare la giunta, la squadra di governo che come dicevamo è uno dei punti di forza dell'amministrazione Nunez. Ecco probabilmente sabato ci sarà una conferenza stampa per annunciare la squadra di governo, no? Sì stiamo lavorando in tale direzione, ovviamente solamente il lavoro assiduo e l'unità che abbiamo costruito può permettere di risolvere questo problema in così poco tempo. Ricordiamo che solo l'ultima giunta di 5 anni fa impiegò mi sembra 22 giorni per lo stesso tipo di atto, quindi oggi il tempo che per noi è un fattore decisivo deve diventarlo anche per la città. Lei ha detto io sarò il sinaco di tutti. Assolutamente, anche questo è un aspetto, un impegno che intendo portare avanti, un'apertura anche nei confronti delle opposizioni, delle minoranze che dal primo consiglio e su tutti i suoi altri importanti verranno coinvolti, quindi sarà un lavoro di tessitura soprattutto sui temi dell'urbanistica e delle grandi opere che Roseto dovrà avere in questi anni per il suo sviluppo futuro.